. Evento dedicato alla danza e alla cultura hip-hop con una non-stop di stage, workshop, battle, contest, one-nights e spettacoli. Quest'anno l'iniziativa è dedicata all'Africa e racconterà la storia dei Masaka Kids, giovani ballerini ugandesi che attraverso danza e musica sanno reagire alle tragedie del loro paese e diffondere nel mondo un messaggio di speranza. Giovedì appuntamento con la Bolvog Night, come nei club new-yorkesi, ci si sfida con gli stili più cool dell'hip-hop. Venerdì scendono in pista gli street dancers freestyle e si eleggono i migliori ballerini di ogni specialità, sabato in programma l'elezione di The Crew of the Year. Domenica finale del Crew contest e assegnazione dei Cruising Award, con montepremi complessivi di circa 15.000 euro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.